Nuova udienza al processo sulle consulenze d'oro, uno dei filoni di inchiesta aperti sul crack di Banca Etruria. Secondo la Procura sarebbero stati spesi circa 4 milioni e mezzo di euro in consulenze definite e inutili e ripetitive per valutare un'ipotesi di fusione con un altro istituto di credito. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti la deposizione di Carmelo Barbagallo, all'epoca dei fatti ispettore di Banca d'Italia, oggi presidente dell'autorità di supervisione e informazione finanziaria del Vaticano. Secondo Barbagallo il concetto di aggregazione espresso da Banca d'Italia era incompatibile con quello di mantenimento dell'autonomia che invece voleva il CDA di Banca Etruria. Innanzitutto è stata un'udienza interessantissima, proprio per ricostruire la verità al di là dei processi. Il dottor Barbagallo che è venuto, è sottoposto a esame per due ore e mezzo, in un momento anche difficile, perché visto che il ruolo che ha, c'è la guerra in Ucraina e ha un incarico a livello internazionale. Si è sottoposto e è emerso che quando Banca d'Italia dice che Banca Etruria si doveva aggregare, voleva dire che ormai non era più in grado di andare avanti autonomamente. Quindi le idee sull'ammantenimento dell'autonomia erano di fatto irrealizzabili. E ciò nonostante, dice il CDA, gli amministratori continuano a parlare di un'autonomia che ormai non c'era più, perché non c'erano più i numeri. Dice anche che per quanto riguardava la vicinanza, proprio questo che ha portato alle sanzioni e poi al definitivo tracollo di Banca Etruria, non aver compreso che non c'era più spazio per mantenere l'autonomia, ma che si doveva cercare di mettere in sicurezza quello che rimaneva della banca, perché la banca era ingessata, dice anche il governatore nella lettera, quindi non poteva più operare. E questo secondo me è una risposta quindi, poi supportata anche dai numeri, a quello che sono in realtà certe anche teorie fantasiose che si sentono comunque circolare o come dove si parla. È la risposta dello Stato italiano, perché Banca d'Italia è lo Stato italiano, a tutte queste quindi teorie. I miei assistiti che hanno subito comunque, sono quelli che hanno subito tutto, sono contenti che lo Stato abbia dato delle risposte quindi chiare, chiarissime, su questa vicenda. Al di là poi dei processi, però è importante arrivare, lo ho detto più volte, a quello che è la verità. E ieri lo Stato italiano ha parlato forte e chiaro.